e lo ha fatto vedere un po' anche Gianni Agliotti, in una maniera diversa, ma mi interessa. Questi sono i dati del SIPRI, sulle esportazioni di armamenti, il SIPRI non li dà mai così, li ho messi in sienegno, in quattro diversi periodi. Quindi è importante questo, perché quando si guarda il commercio di armi, non bisogna mai guardare un anno, ha, faccio una piccola parentesi, qualche anno fa guardando il tabulare del SIPRI, una giornalista, non ricordo sia del Corriere della Sera o della Stampa, per l'estate, un po' più infelice di questa ragazza, gli hanno detto, scrive un articolo, guarda il SIPRI, ha scritto che il maggiore sistema d'arma che l'Italia aveva esportato quell'anno nel mondo, era praticamente una nave, era una nave da guerra al Perù, in quell'anno l'Italia aveva portato sistemi, la maggior commessa era stata sistemi terraria, missili terraria venduti al Pakistan, quella era una nave dismessa, riciclata praticamente, venduta al Perù, se uno guarda quel database trova poco, se uno non conosce un attimo come guardarli, i dati, si fa davvero strafarcioli, quindi mai guardare i dati di un anno, questo lo voglio dire, ma questo è interessante perché SIPRI, dandoci i dati fino al 50, ci offre la possibilità di vedere una cosa, gli Stati Uniti sono, e questo è un quinquennio, quindi non l'hanno solo, sono negli anni, nei primi anni 90, il maggiore è esportato di armi, a livello mondiale, qui abbiamo la Russia che si sta riorganizzando, qui abbiamo praticamente sette paesi dell'Unione Europea, neanche tutti, sette principali paesi dell'Unione Europea che producono armi, questi sono gli altri a livello mondiale. Vediamo che gli Stati Uniti decrescono, per poi risalire, guardate la linea blu, scura, vedete la Russia che di fatto sale e poi si ferma, l'esportazione di armi russe, guardate quelli dei sette paesi dell'Unione Europea, mentre all'inizio degli anni 90, molto distanti dalle esportazioni degli Stati Uniti, negli ultimi quinquennio i paesi dell'Unione Europea sono i maggiori esportatori di armi convenzionali a livello mondiale. Quindi non stiamo parlando di una industria secondaria, molto spesso si dice ma l'industria americana degli armamenti, certo è che è un'industria potente, ha molto più finanziamenti eccetera eccetera, ma a livello di commercio, di trasferimenti, di esportazioni e l'industria europea oggi il principale esportatore di armi a livello mondiale e neanche di tutto l'Unione Europea, dei sette paesi praticamente l'Unione Europea, la Bretagna, Francia, Italia, Svezia, Germania, Olanda e Spagna. Questi sono i dati, dicevo, che ci fanno vedere una crescita e ormai siamo lì, l'Unione Europea esporta tante armi, quante ne esporta praticamente gli Stati Uniti. Questo ci ha mostrato, sì, ecco, questo invece, qui vedete la differenza, lì parlavamo di praticamente in cinque anni, i sette paesi dell'Unione Europea, il SIPI ci dice che sono 40 miliardi di dollari, a livello invece di licenze, cioè di autorizzazioni all'esportazione, questi sono i dati ufficiali del rapporto dell'Unione Europea, soltanto nel quinquennio 2006-2010, soltanto la Francia ha autorizzato esportazioni, autorizzato, non è sempre detto che le concretizzi, ma ha autorizzato, quindi è un valore politico, esportazioni degli armamenti sulla Francia tra 58 milioni di Euro, quindi capite bene come, scusate gli altri di Euro, quindi capite bene che siamo a una questione molto diversa, però anche qui vediamo una cosa, che la Francia è il primo paese per l'autorizzazione e esportazione di armamenti, la Germania è il secondo, ma l'Italia è vicina, e poi abbiamo gli altri paesi. Questi sono i dati ufficiali del rapporto dell'Unione Europea, però se voi cercate nell'accordo di 400 pagine, una tabellina così, sempre cercare e non la trovate, perché questo vuol dire mettersi via a tabularli tutti. E vediamo le destinazioni, cioè a chi i paesi dell'Unione Europea esportano arabi, nell'ultimo quinquennio, i dati ufficiali dell'Unione Europea, gran parte, una buona parte, 55 miliardi sono ai paesi stessi dell'Unione Europea, cioè la Francia esporta l'Italia, l'Italia esporta la Germania, quindi possiamo chiamarlo commercio interno, e poi questo mi sentirà per una riflessione sull'industria, ma poi guardate, in blu sono belli della fascia al nord del mondo, usando la stessa terminologia che usava ieri appunto Finardi, i paesi del nord del mondo, quelli invece in rosso e arancione sono i suoi del mondo. Il secondo, cioè il primo, principale acquirente di armamenti dei paesi dell'Unione Europea al di fuori dell'Unione Europea è il Medio Oriente, una delle zone di maggior conflitto del mondo mondiale, o di maggior pensione, abbiamo poi l'Asia, Malesi, Singapore, eccetera, eccetera, in nord America si dice che l'industria americana e gli Stati Uniti sono tra i maggiori acquirenti dell'industria europea della difesa, usate l'espressione, è una palla, dati alla mano non è vero, mettetevi lì e ritabolatevi tutti e riesce questo dato, e cioè praticamente Canada e Stati Uniti dall'Unione Europea acquistano molto meno di quello che acquista nei paesi del Medio Oriente e di quello che acquista nei paesi dell'Asia, perché hanno una loro industria interna ovviamente, che funziona. È interessante perché addirittura l'Africa acquista più armamenti di tutti i paesi dell'Africa, più armamenti di quelli che acquistano, la frase esatta è, l'autorizzazione e l'esportazione dei paesi dell'Unione Europea verso l'Africa sono maggiori di quelle verso i paesi del Medio Oriente e del Sud. Se metto insieme, secondo la divisione che faceva anche ieri il Sazio Finati, il nord-sud del mondo, che figurò, scusate questo in italiano ma lo spiego, le licenze, l'autorizzazione, l'esportazione verso i paesi del nord e sud del mondo, noi richiamo che verso il sud del mondo il 46% di armamenti dell'Unione Europea. Dico questo in termini industriali, l'industria europea della difesa sta in piedi, si mantiene, è in grado di prosperare grazie all'esportazione di armamenti verso il sud del mondo. Quindi il primo passo, se voglio pensare alla riconversione e guardare cosa c'è dentro in questa esportazione qua, a chi vanno a finire.